allora stelle siamo stati fuori siamo stati bene abbiamo fatto ficca come si dice no quello che state pensando voi ficca qui vuole dire pausa non benfica le abbiamo sbattuti fuori già allora pronti iniziamo piano piano a cioè hai capito iniziamo a mancano quante ore 4 quanto manca cinque ore cinque ore scatto cinque ore e per la gente che ama soltanto te per tutti quei chilometri che ho fatto per te internazionale devi vincere e per la gente che ama soltanto te per tutti quei chilometri che ho fatto per te internazionale devi vincere gufi pronti gufi dai che festeggiate non state l'unica soddisfazione vostra sarà se l'inter perde forza ragazzi tenete duro lo so che avete ansia ma tenete duro di obolo tenete duro vada via al ciab